ciao amici dove sono oggi oggi sono in un laboratorio artigianale dove creano cose particolari non con l'oro non con l'argento ma con la ceramica questi gioielli fatti in un modo tutto artigianale tutto casalingo li fanno qui in questo laboratorio vedete le mie spalle oltre a gioielli fanno altre cose tazze ceramiche quadri e chi le fa è una vera e grande artista però adesso cosa facciamo andiamo a vedere cosa stanno facendo se volete informazioni dove si possono trovare queste meraviglie che adesso vi farò vedere man mano una una vi lascio l'info box qui nell'info box l'email di questo laboratorio e anche il loro sito andate a visitarlo mi raccomando si possono fare gioielli personalizzati quindi se avete qualche idea se avete qualche logo se avete delle medaglie qui si può fare tutto tengono anche dei corsi specializzati per decorazione di ceramica e porcellina e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al prossimo video!